Il primo sequestro della nuova banda fu un disastro totale. Se ne doveva occupare Virgilio, un ragazzotto di belle speranze. Lallo aveva un debole per lui. La vittima era una ragazza di buona famiglia che stava col suo fidanzato. A mezzo di merda! Fatte merda! A mezzo di merda! A mezzo di merda! A mezzo di merda! A mezzo di merda! Lasciami! Che cazzo siete? A mezzo di merda! 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 A mezzo di merda!